Stefano Salvi di NGV Sì, grazie. Io sono un ricercatore di NGV, però mi presento qui anche come componente del forum nazionale Salviamo il Paesaggio, che forse alcuni di voi conoscono. È un forum che raccoglie migliaia di associazioni locali italiane e che si sono sostanzialmente radunate sotto la bandiera dello stop al consumo di territorio. Questo è successo già due anni fa a seguito di esperienze anche precedenti. Io volevo fare due commenti tecnici da tecnico e poi un discorso un po' appunto da volontario del forum e quindi da persona che agisce nel terzo settore. I commenti da tecnico sono sostanzialmente che, come ha detto Fabio Terribile, la materia del consumo di suolo, quindi la pianificazione e quindi il consumo di suolo, sono materie di governo regionale. Pertanto, sicuramente questi sono quadri assolutamente necessari, però è anche necessario andare nel dettaglio, cioè andare nel dettaglio delle singole regioni, dei singoli comuni, non solamente, chiaramente, dei grandi comuni, delle grandi aree urbane. E perché i servizi ecologici svolti dai fazzoletti di terra che sono in area urbana, per esempio, sono ben diversi da quelli delle aree rurali o comunque vanno conteggiati in quel bilancio che serve poi al pianificatore della regione per fare una sua politica, si spera, sana di sviluppo ecosostenibile. A questo titolo, il secondo commento quindi rispetto alla necessità di andare ad alta risoluzione è, e questa è una cosa che tu sai bene, un argomento molto interessante, è quello dell'utilizzo dei dati satellitari, in particolare i dati Cosmos SkyMed. Sappiamo bene che l'Italia è coperta ogni 16 giorni da immagini satellitari che possono essere a 3 metri per 3 metri di risoluzione, che se fossero utilizzate a costo zero per le amministrazioni pubbliche potrebbero dare un quadro immediato, aggiornatissimo ed altissima risoluzione di quello che è il consumo di suolo ogni 16 giorni in Italia. E si tratta di cose dal punto di vista tecnico fattibilissime, semplicemente ci sono dei colli di bottiglie istituzionali da risolvere. Dal punto di vista invece del forum Salviamo il paesaggio, noi abbiamo organizzato a Roma a ottobre un primo convegno, un primo momento di incontro tra il mondo delle associazioni e il mondo dell'accademia. C'erano molti accademici qui presenti e stiamo pensando adesso, e chiaramente ISPRA è stato uno dei partecipanti promotori, e stiamo adesso sempre insieme con ISPRA pensando di organizzare un secondo evento molto più grande, in cui lo scopo non è solo quello di presentare come è stato detto oggi definizioni e dati che già peraltro sono disponibili, ma soprattutto definizioni per far capire la differenza tra il suolo come organismo vivente rispetto al suolo come entità di filtro rispetto per esempio all'inquinamento delle falde acquifere, insomma tutte le funzioni del suolo, ma soprattutto quello di far sì che le associazioni, tutti, diciamo il terzo settore che lavora su queste tematiche, possa da una parte crescere culturalmente, che è una cosa che purtroppo anche ora oggi è una cosa che manca, ma soprattutto possa acquisire quegli elementi attraverso i quali fare pressione sul mondo politico dalla base, perché sappiamo bene che il mondo scientifico, anche i servizi stessi, hanno una loro funzione che però spesso e volentieri è limitata, cambiano i governi, cambiano i presidenti dell'ISPRA e degli altri enti e tutto quanto, invece quello che non cambia sono gli elettori, allora la nostra strategia è di chiudere questo cerchio e far sì che il mondo dell'accademia, il mondo dei servizi, si incontri per una volta, cosa che non credo sia mai successa, con il mondo del volontariato, delle associazioni, per far sì che si crei una lobby trasversale in grado di influenzare le politiche nazionali, non solo nazionali, ma come abbiamo detto anche regionali. Grazie. Grazie Stefano, soltanto due, tu mi fai un'alzata e non voglio essere polemico, voglio essere notarile oggi, mi fai un'alzata che andrebbe anche a colpire, sai benissimo, andrebbe a colpire molto lontano, no? Sul, sai benissimo che il discorso che fai tu l'abbiamo costruito assieme partendo da moltissimi anni fa, che alcuni progetti che sono svariati, decine di milioni di euro, sono andati per i fatti suoi, che noi servizi responsabili e comunità scientifica abbiamo cercato di influenzarli, non ci siamo riusciti, mi sono molto vicini, contigui, ma non vicini in altri termini, ma neppure con un articolo di legge, che lo ricordo ai parlamentari, lo ricordo ai parlamentari, della legge 135 del 2012, l'articolo 23,11, quaterdeces, se non vado errato, attribuiva all'ISPRA un ruolo che non è ancora attuato, non è ancora attuato, perché quello che non si capisce in Italia è chi si ragiona subito, ma chi si mette in tasca i soldi, non chi cerca di mettere insieme un servizio, o cerca di avere un processo di ottimizzazione, quanto abbiamo fatto assieme per moltissimi anni, noi abbiamo portato in Europa prodotti, inutile non nascondi, prodotti che gli altri paesi europei non avevano sul monitoraggio dei vulcani da satellite, su mille altre cose, sulle deformazioni, è inutile ce lo raccontiamo, siamo stati un'eccellenza a livello mondiale, non solo a livello europeo, però poi quando arrivi in casa, quando c'è un articolo e dice che la piattaforma a ISPRA compete creare la piattaforma di interoperabilità, di interscambio, di condivisione, di tutte le informazioni ottenute con finanziamenti, anche parzialmente pubblici, le modalità saranno regolate da un DPR e il DPR non appare. E poi si fanno le leggi, ma poi sono i regolamenti attuativi quelli che danno a facoltare le leggi. Per quello ti dico non alzarmi troppo la palla, poi divento polemico e faccio i nomi e i cognomi, perché come tu sai lo faccio sempre, non ho necessità di nasconderlo. Però il tentativo è proprio questo e ti segnalo però un discorso, non è ISPRA, è il sistema agenziale. Noi abbiamo voluto assieme alle commissioni, soprattutto l'ottava che è stata la capofila in questo processo, dare vita al sistema nazionale. Il che vuol dire che anche nel rapporto che tu vedi c'è la tecnica, il metodo scientifico come base. Cosa vuol dire? Tu hai un dato satellitare, l'hai visti da Copernicus, non solo, altri dati che non sono messi in evidenza, ma poi questi sono controllati al suolo. Cioè i colleghi a scala regionale, agenziale, scendono alla scala comunale, il che vuol dire anche andare a vedere qual è tarare il dato satellitare, poi fondamentalmente, su una serie di elementi di campionamento a campionamento. Questo per dare l'idea. La costruzione è proprio questo discorso in cui le tecnologie che vengono sviluppate in ambito accademico e scientifico, vengono trasformate, come dicevo, tu lo sai benissimo, in processi per servizi pubblici. L'altro elemento è il volontariato. L'ultimo accenno che ha fatto Michele all'iniziativa di Ispra, anche rispetto all'interazione diretta dell'informazione del cittadino, fa parte dell'atmosfera che tu hai voluto correttamente, io ci speravo, rappresentare in forma sintetica. Questo per la conoscenza di tutti. C'è Nicola Casagli, a cui do cinque minuti, è l'ultimo accademico che si è inserito all'ultimo momento, tirato dall'intervento, naturalmente, di Stefano. Poi chiudo qua, perché se no vi tirate a vicenda come le ciliegie. Poi chiudo qua, perché se no vi tirate a vicenda come le ciliegie.